Esercizio 1. Respirazione controllata. Chiudi gli occhi. Fai un respiro profondo, contando mentalmente e lentamente fino a tre. Uno, due, tre. 3. Spingi l'aria, inspirata, verso la pancia e via, via, sempre più su, fino a riempire completamente i polmoni. Trattieni il respiro per circa tre secondi. Uno, due, tre. Non avere fretta. Prenditi il tuo tempo. Espira lentamente, contando fino a cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque. Non forzare eccessivamente il respiro, ma mantienilo fluido e regolare. Ripeti l'operazione. Concentra l'attenzione su quel punto della pancia che si alza e seguilo su fino al torace. Utilizza il naso per inspirare, la bocca per espirare. Mentre espiri, cerca di liberare la mente da problemi e preoccupazioni. Fai scorrere via i pensieri insieme all'aria che esce dal tuo corpo. Mantieniti calmo e rilassato. Concentrati sulla respirazione e prova a ripetere l'esercizio per dieci minuti. Se ti concentri sulle fasi della respirazione, non verrai assalito da pensieri spiacevoli. Se ti concentri sulle fasi della respirazione, non verrai assalito da pensieri spiacevoli. Grazie a tutti.